Il Presidente della Chiesa Nuova a termine della gara Porto San Cristiglio Chiesa Nuova, Presidente oggi è una bella soddisfazione ritornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Era una partita difficile, anche se sembrava facile, una vittoria 5 a 2, però una vittoria importante che dà morale alla classifica e a tutto l'ambiente. Sì, era ora rimuovere la classifica perché due stoppe consecutivi, sicuramente con due squadre importanti perché lo hanno dimostrato anche successivamente, quindi ci poteva stare, però dico che forse potevano avere un altro esito, ma non è andata, questa era importante vengerla perché dobbiamo stoppare il momento brutto. E era pericolosa anche questa perché chiamano un punto, quindi prima o poi dovevano cercare il riscatto, però l'abbiamo approcciata bene, nel primo tempo abbiamo fatto il massimo, quindi dopo ha preso una direzione, diciamo, discesa. Comunque niente, non dobbiamo mollare niente perché dopo le partite abbiamo 12 punti, la media è quella della salvezza, io controllo sempre quella. Ultima domanda, una vittoria dedicata al nostro accompagnatore dirigente Luciano Lisitano che in questi giorni è venuto a mancare. Eh sì, purtroppo ogni tanto la società è fatta di tante persone e ogni tanto ci sono queste brutte sorprese, qualche anno fatti in una partita, tutti ricordi, il nostro massaggiatore. Qui con me il tecnico Gianluca Giacometti, miste una vittoria importante contro il Porto Santerpidio, poteva sembrare prima della gara non era una partita facile perché il Porto Santerpidio nelle ultime gare ha fatto ottime prestazioni anche se era uscito sconvitto con l'Azzurra, con l'Urbino, ma oggi Chiesa Nuova l'abbiamo visto subito dopo due sconvitte consecutive andare subito in avanti, già dai primi minuti si vedeva che Chiesa Nuova oggi voleva fare un risultato positivo. Sì sì, abbiamo avuto una buona partenza, quello che dovevamo fare, siamo partiti determinati a cercare la vittoria a tutti i costi oggi, i ragazzi sono stati bravi, poi abbiamo avuto delle disattenzioni che hanno portato a quell'aerogol di Russo del primo tempo che ha saltato 6-7 persone e quelle cose che non dobbiamo fare perché poi basta pochissimo per riaprire una partita. Fortunatamente poi siamo stati bravi a richiuderla immediatamente, poi al secondo tempo l'abbiamo un po' gestita.